Ciao a tutti ragazzi, oggi vi porto l'unboxing del nuovissimo Super Mario Wonder il nuovo titolo della serie di Super Mario che porta un gioco 2D ma con tantissime novità quindi non è il classico Super Mario Bros ma proprio un'esperienza completamente nuova proprio grazie ai fiori meraviglia ma poi vedremo sul retro un po' le novità quindi girando la confezione vediamo il titolo del gioco Super Mario Wonder e poi qua ci dice un po' di descrizione del gioco e dice cambia il mondo con il potere della meraviglia e qua dice misteriose trasformazioni i fiori meraviglia trasformano il gioco in ogni livello e ti attendono nuove sorprese ad esempio come vediamo qua i tubi sono normali poi prendendo un fiore meraviglia un tubo diventa una specie di serpente o una cosa simile e dopo di che qua dice scegli una spilla personalizza i tuoi poteri in base alle caratteristiche di ogni livello e al tuo stile di gioco quindi sono praticamente dei power up con delle abilità in più che possiamo utilizzare nei vari livelli e poi ovviamente abbiamo nuovi potenziamenti quindi raccogli oggetti per assumere nuove forme se prendiamo questa specie di frutto elefante diventiamo Mario Elefante poi possiamo diventare anche Mario Bolla e infine Mario Trivella quindi un sacco di power up nuovi e chissà che il gioco non ne nasconda altri quindi procediamo subito ad aprire questo gioco e vediamo un po' come è fatto all'interno di questa confezione che magari ci fa vedere qualche dettaglio in più del gioco oppure comunque sarà decorata in qualche modo particolare e wow vediamo tutta la mappa del gioco veramente bellissimo quindi qua abbiamo tutti quanti i personaggi Yoshi, Luigi, Peach, Mario e poi ci saranno anche molti altri personaggi giocabili tra cui per la prima volta Daisy e poi nello sfondo vediamo tutti quanti i mondi di gioco immagino quindi qua abbiamo più un mondo tipo vulcano qua un mondo normale qua c'è quella specie di castello fluttuante in cui Bowser si è trasformato qua un bellissimo mondo con questa specie di albero di ciliegio fatto di nuvole veramente bellissimo e poi verso di qua abbiamo una specie di deserto insomma veramente tantissime aree interessanti qua abbiamo il nostro amico Fiorellino che ci aiuterà durante la nostra avventura e qua abbiamo la schedina di gioco che useremo sulla nostra Nintendo Switch quindi se anche voi siete emozionati di giocare il nuovo Super Mario Bros. Wonder lasciatemi giù un commento e poi ci vediamo nei prossimi gameplay